Buongiorno e ben ritrovati, martedì 14 aprile, siamo in diretta su Fano TV, sono le 7.48 e salutiamo tutti voi che ci seguite con tanto affetto ogni giorno per seguire ovviamente, per leggere insieme a noi anche le notizie, essere informati sulle notizie più importanti del giorno. In questo caso la rassegna stampa, occhio ai giornali che come tutte le mattine vi dà la possibilità di sfogliare i giornali e di leggere e di selezionare i titoli delle notizie più importanti del giorno. Oggi le dico che sono aperte, come sempre in tanti, alcune aziende ripartono, lo vedremo anche, saremmo dovuti ripartire tutti oggi in realtà, stando a quello che era il vecchio decreto, ma tutto è stato prolungato come sapete al 3 di maggio e speriamo che davvero si possa tornare piano piano alla normalità. Intanto andiamo a vedere il santo, cioè il santo di oggi che la Chiesa ricorda, in realtà sono 3, Tiburzio, Valeriano e Massimo. Il sole, il sole è sorto alle 6.25 e tramonterà alle 19.51. Vorrei salutare anche tutti quelli che ci seguono attraverso internet, anzi attraverso Facebook, vedo che stanno salendo notevolmente, siamo già 83, 83 persone. Allora, come vedete, qui colgo l'occasione per fare uno spot, un promo, anche perché è un'iniziativa che riguarda noi, che Facebook ci dà la possibilità di fare. Allora, tutti quelli che ci seguono attraverso Facebook, se ci seguite dal cellulare, vedete sotto appare la scritta, ti sta piacendo, con un punto di domanda, invia stelle per supportare, non sopportare, quello tutti, ma supportare, quindi dare un aiuto a occhio alla notizia. Invia. Potete inviare delle stelline che si possono acquistare e inviare. È un modo per aiutare, è un modo per sostenere questo video e sostenere chiaramente la nostra redazione. C'è un pacchetto di stelline che si possono comprare e donare. Lo hanno fatto, per esempio, alcuni anche nei giorni scorsi, per sostenerci quando abbiamo mandato in onda la Santa Messa, quindi tutto il triduo pasquale. Detto questo, torneremo comunque a parlare delle stelline. Se volete potete darci appunto la vostra stellina. Intanto andiamo a vedere il tempo. Velocemente c'è solo la pagina di oggi, martedì 14, che prevede, per quanto riguarda la giornata di questa mattina, rovesci o temporali sparsi in esaurimento, però nella parte già dalla mattinata, a partire da nord. Nel pomeriggio alcuni fenomeni residui. Il tempo tornerà a migliorare. Andiamo a vedere adesso i giornali. Cominciamo dal Corriere Adriatico. Il titolo d'apertura riaprano in tanti, tutto a posto. Da oggi al lavoro 2.000 aziende, sfruttando la deroga per le filiere produttive. I prefetti le controlleranno ad una, ad una. C'è il caso Whirlpool. I sindacati però proclamano lo sciopero. L'epidemia frena. Il virus cresce meno del 2%. Tregua nelle terapie intensive. Centropagina. Passeggiate e chiacchierate ai giardinetti. Subito multe. A Pesaro c'è che è stata multata perché sorpresa più volte sulla ciclabile e chi perché era sulla panchina a chiacchierare tranquillamente. risvolti della stretta di Pasqua. Buoni spese a 30 famiglie irreperibili. L'appello per trovare appunto queste persone. Intanto le case di riposo. Osceno balletto tra i gestori e la Regione. Intanto c'è da dire che la Procura, soprattutto a Pesaro, ha aperto una inchiesta. Ed ecco infatti il titolo di apertura dell'edizione di Pesaro. Si muove la Procura. Troppi decessi acquisiti gli atti su una struttura e l'epidemia attacca anche la Sacra Famiglia di Via Spada. Poi il calvario di un pesarese. Un pesarese di 49 anni. Massimo l'incubo e poi la guarigione. È davvero l'inferno, racconta lui. E poi i protagonisti della riabilitazione, quelli che escono dall'ospedale. Grazie a noi i malati tornano a respirare. Centro pagine invece balli in strada e passeggiate. Circa 100 multe nel fine settimana pasquale. Ancora troppi in giro senza un motivo realmente necessario. Pranzi dai parenti, riunioni davanti al bar, marito e moglie che fuggano e insultano i carabinieri. E poi ovviamente sanzioni e protesta. Andiamo a vedere le pagine interne. Il virus ora cresce, meno del 2%. Tregua nelle terapie intensive. L'epidemia frena ancora. L'aumento dei casi positivi all'1,5%. Libero un posto su tre nelle rianimazioni Covid. Il totale dei dimessi e dei guariti sfiora quasi 1.600. Adesso è il doppio del numero delle vittime, salito a 728. Sulle case di riposo c'è l'inchiesta invece. Titola il Carlino, la Procura ha acquisito gli atti, l'indagine solo all'inizio. Non ci sono ancora i nomi. Nel Mirino c'è una struttura però. L'interrogativo cui si vuole dare una risposta riguarda l'alto numero di decessi. In totale siamo a circa 60 dall'inizio dell'epidemia. I contagi, i decessi, i recovery, eppure va meglio. È l'analisi di Paolo Barchiesi, fisico, il quale dice sono segnali positivi dall'evolversi di numerosi parametri. Prevedo a maggio una parziale riapertura. Con l'avvio della fase 2 bisogna assicurarci che in giro circolino solo le persone sane. Dunque, tamponi pure a chi si sente comunque guarito. Intanto la curva pesarese, come si vede dal grafico, si è appiattita. L'aumento dei casi positivi è sempre meno marcato. Questa è una curva che si riferisce a Peso Rubino e mostra dunque un andamento molto dolce che in gergo si chiama sublineare. Le impennate dei primi tempi tra la fine di febbraio e l'inizio di marzo sono ormai lontane, anche se non sono mai totalmente scuse eventuali recrudescenze. Mentre sulla pagina di Fano del resto del Carlino la pagina dove si parla della morte di un uomo molto conosciuto a Fano, il professor Gabriele, detto Lele Giommi, 74 anni, fanese, che è morto ieri a causa del coronavirus. Si era ammalato con il Covid-19 dalla fine di febbraio, lascia la moglie, due figlie, è stato per anni docente dalla scuola di Nautica. Ha lottato come un leone per oltre 30 giorni, ma ieri il suo cuore ha cessato di battere. Questa è la pagina del resto del Carlino. E sotto il virus ha ucciso anche Galfiero Cappelletti, titolare di un'impresa idile storica. Si è ammalato il 13 marzo scorso, dopo tre settimane di ricovero è morto, aveva ristrutturato il Teatro Sanzio, realizzato edifici a Trasanni e anche a Villa Fastigi. Il coraggio di Don Paolini arriva alla New York Times, l'articolo uscito sul giornale, sul resto del Carlino, ripreso dalla ceva di testata americana, elogio al sacerdote che benediva le vittime del coronavirus, sfidando il pericolo. Il sacerdote aveva detto che a volte si può trasgredire un po' con la legge per stare vicino alla gente. Intanto la reazione da registrare della dirigente sanitaria regionale che si scaglia contro il primario di neurochirurgia di Pesaro, Letterio Morabito, che aveva dichiarato che non tutti, o meglio che all'inizio, lo disse ad un'intervista qui al Carlino, che nei primi 15 giorni del virus si era deciso di chi far vivere e chi no. È una cosa terribile questa, è una cosa che fa venire la pelle d'oca. Noi abbiamo, dice però Lucia Di Furia, la dirigente della regione, noi abbiamo rimodellato gli ospedali per dare assistenza a tutti senza distinzione. E dunque Morabito dice il falso. Secondo la dirigente regionale, i pazienti per noi sono tutti uguali. E intanto mio marito è stato curato a casa e ce l'ha fatta, la moglie ricorda il ricovero in condizioni drammatiche. Avevo detto ai miei figli che non l'avrei lasciato in ospedale e l'ho riportato a casa. E tutto è iniziato il primo di marzo, un primo di marzo che non potrà mai dimenticare. Dice mio marito ha accusato febbre alta, il suo rientro dal lavoro, pochi giorni dopo gli stessi sintomi del virus hanno colpito anche me, seppure in forma meno grave. Sono state settimane durissime. Ad un certo punto credevo di non uscire e di perdere mio marito, che aveva una difficoltà respiratoria seria. Fin dall'inizio dei sintomi Covid siamo stati seguiti dal medico di famiglia. Devo dire che il monitoraggio era quotidiano, eppure la febbre non eccennava a diminuire. E Letizia Francesconi ricorda tutto quello che è successo, il processo, questa attesa e queste cure che sono comunque continuate a casa. Intanto anche il Corriere Adriatico ricorda con sorpresa l'esempio di Don Giovanni Paolini che è stato citato dalla rivista, appunto, dal quotidiano americano, New York Times. Così insegniamo invece ai malati a riprendere fiato, questo è l'altro titolo, dal resto del cardino. Dopo il virus c'è chi perde l'abitudine persino a respirare. Marche Nord e Azure attivano un percorso di riabilitazione per i pazienti positivi. Ed è come se si disimparasse a respirare. Questa è una delle conseguenze con cui talvolta si trova a fare conto di chi ha ingaggiato la sua personale battaglia contro il Covid. E dunque c'è appunto questo speciale percorso di riabilitazione che coinvolge i pazienti ex Covid. Intanto c'è un altro problema del quale bisognerà cominciare a prendere sempre di più, bisognerà fare i conti prima o poi, lo stress. C'è questo stress che continua in queste settimane, tanti si sentono reclusi. La clausura non è per tutti, lo stress da pandemia minaccia il nostro dopo. È il contagio, la clausura. La psichiatra Roberta Manzi preoccupata per le conseguenze e dice tutti noi colti di sorpresa, siamo stati colti di sorpresa da questa pandemia, prepariamoci ad affrontare anche il disturbo post-traumatico. E la reclusione forzata, a parte qualche tentativo di aggirarla, è stata ormai accettata. Ma come stiamo vivendo questi giorni surreali a casa? Soprattutto in queste brevi uscite, nonostante il nostro umano bisogno di contatto, come ci comportiamo verso gli altri? Insomma, tutte domande che Elisabetta Marsigli ha posto appunto alla psichiatra Roberta Manzi, la quale dice, in questo momento preferisco osservare le persone responsabili, per fortuna la maggioranza, siamo arrivati tutti in ritardo, gli scienziati, i politici, noi, è vero, un disastro che ha colto tutti impreparati, dallo sbigottimento attonito dei primi momenti in cui si è peccato di troppa leggerezza, a causa dei messaggi anche un po' contradditori, fino alla paura, al panico ingiustificato. E poi dice come fare, racconta come fare e tutto quello che si dovrebbe fare da qui in avanti. Insomma, da quando sarà finita perlomeno l'emergenza sanitaria comincerà quella che riguarda appunto la nostra tenuta psicologica. Oltre 340 operatori sanitari sono in isolamento tra Marche Nord e Arevasta 1. Sta per essere attivato lo screening diffuso al personale sanitario Marche Nord per la ricerca degli anticorpi. Manca però il protocollo. Strage di anziani parte un'indagine conoscitiva. Il virus che devastazione, dice la procuratrice Tedeschini, la procuratrice di Pesaro Cristina Tedeschini, che ha delegato accertamenti su un'unica struttura per la gravità dell'epidemia, ritenuti improbabili processi su altre condotte. Mentre allucinanti gli sfoghi sui costi dell'elicottero per buona parte della giornata di ieri, qualcuno forse che era sulla terrazza di casa e che ha preso una boccata d'ossigeno fuori da una boccata d'aria forse l'avrà visto, per una buona parte della giornata di ieri, tra controlli e foro di distrazione, insomma c'è stato questo elicottero che ha girato, sorvolato Fano, Pesaro, eccetera, polemiche sul rumore e i costi di questo elicottero che ha sorvolato la città per lungo tempo, soprattutto per vedere appunto, per controllare la quarantena. Polemiche nate e rinfocolate soprattutto via social, a cui ha risposto il segretario però del sindacato, del SILP CGL, Pierpaolo Frega. Leggendo i dati statistici che collocano la provincia di Pesaro al quarto posto dei decessi legati al Covid-19, constatando che le terapie intensive dei nosocomi faticano ad accogliere i pazienti, gli sforzi del personale sanitario e non solo, è offensivo e allucinante lo sfogo a Pasquetta che si è levato sui social riguardo all'utilizzo dell'elicottero ai fini di prevenzione di contenimento degli spostamenti delle persone. E poi continua nel giornale. Il virus attacca pure la Sacra Famiglia, infettati ospiti e parte del personale, la testimonianza delle suore della struttura di via Spada, ogni volta che qualcuno sta male, chiamiamo il 118 e poi decidiamo con i medici sul ricovero. La stretta sui contatti sarebbe arrivata a marzo inoltrato e questo è il vero problema. Visita interrotta intorno al 10 e non si vedevano ancora le mascherine. E quindi è lì che probabilmente c'è stata la falla. E poi le suore, restando sul tema, le giovani suore di Cartoceto che donano rosari al 118, rossi come amore e martirio, di colore rosso lo vedete nella fotografia, bianchi come la purezza, ogni giorno preghiamo grazie per ciò che fate. E poi ancora sui quotidiani di questa mattina, tutti tappati in casa o quasi, a camminare e non si rinuncia, una signora pizzicata più volte a passeggiare sotto monte, a Pesaro, lungo la ciclabile, multati anche sei anziani su una panchina, 30 sanzionati dalla polizia. Queste sono le fotografie, vedete c'è anche chi comunque non ha saputo resistere alla passeggiata o ad andare persino in riva al mare. Intanto vedete qua i carabinieri con un Fermi e l'elicottero di cui appunto si parlava poc'anzi. Piccola folla di anziani fuori dal bar, tutti multati, è successo all'isola del Piano, due coniugi di Pesaro oltraggiano senza dare i nomi e poi multe, multe denunce. Coppia di Montecchio dice andiamo alle poste, insomma il giorno di Pasqua andare alle poste sarà un po' dure. Sei anziani che parlavano tranquillamente riuniti in due panchine in isola del Piano come in una giornata qualunque. Molti purtroppo non l'hanno davvero capito, non l'hanno capito che il virus non prende l'autobus, il virus lo trasportano le persone e l'unico modo in questo momento, ancora l'unico modo è quello di stare separati, distanti. E queste sono le fotografie che il resto del carino pubblica questa mattina. Qui c'è la distribuzione delle mascherine da parte del sindaco di Pesaro Matteo Ricci, poi qua un controllo in via Roma, in via Flaminia a Fano con esercito e polizia e poi un sacerdote, un sacerdote Don Michele Rossini, parco di Cattabrighe, che è salito a Santa Marina Alta per affidare la comunità alla Madonna delle Grazie e con il sindaco Matteo Ricci poco lontano a distribuire le mascherine ai residenti. Invece il sindaco di Cartoceto, Ricco Rossi, diventa sceriffo, titola il resto del carino, ha diviso il comune in quattro aree. Chi esce dalla sua zona viene subito multato per fare le riduzioni, attendiamo, l'erogazione delle somme vere e non gli anticipi dovuti per quanto riguarda la sospensione dei contributi nel comune di Cartoceto. A proposito delle multe, assolutamente, insomma, gli agenti della Polizia Locale di Cartoceto dicono, ha detto Rossi, escono tutti i giorni con una pattuglia sia al mattino che al pomeriggio, effettuano un servizio anche nelle giornate, ha effettuato anche Pasqua e Pasquetta. Fino ad oggi le sanzioni elevate sono state una decina, dispiace arrivare alle contravvenzioni, ma in gioco c'è il bene supremo che è il bene della salute di tutti. Pasqua con i buoni, ma oltre 30 famiglie risultano irreperibili. Conclusa in tempo utile la consegna dei voucher per la spesa, a Pesaro aumenta ancora il numero dei negozi che applicano gli sconti. E ancora dai quotidiani, in azienda, tra i dubbi, c'è chi spinge, c'è chi frena, chi vorrebbe riaprire, chi vorrebbe rimanere chiuso. Sulle prossime riaperture interviene Bordoni della CNA che dice che bisogna allargare a tutte le attività produttive. Rossini della CGL dice che il danno economico c'è stato, meglio pensare alla sicurezza. In provincia di Peso Urbino, secondo la Camera di Commercio, le imprese attive, la cui riapertura è consentita, sono 18.871 su circa 40.000 aziende, 821 in più rispetto all'ultimo decreto, quindi per un totale di 43.834 lavoratori. E sempre a proposito di aziende, di economia, c'è l'intervista che il Carlino ha realizzato con Paolo Andreani, ex Presidente di Confindustria e titolare della Isi Infissi di Calcinelli. Figli e figliastri della Fasi 2, dice Andreani, noi siamo bloccati, l'imprenditore non potrà riprendere la produzione di serramenti in alluminio mentre saranno autorizzati a farlo i concorrenti che lavorano in legno. Il carico di mascherine per le nostre maestranze è stato bloccato all'aeroporto e dall'edilizia alla nautica tutti vogliono ripartire. La Ferretti Yacht ha chiesto la deroga, così come la Pavimental, anche l'ABS gradualmente ricomincia. In tutta la regione sono arrivate all'Inps 11.000 domande di cassa integrazione, di cui 2.500 soltanto da Pesero. Parlando invece di altro, parliamo di una rapina che c'è stata a Pergola, a Pergola neppure il Covid, neppure il coronavirus, ha scoraggiato i delinquenti. Successo l'altro giorno, un uomo è entrato, un quarantenne, con la mascherina chirurgica che gli copriva naso e bocca, occhiali da sole, e ha puntato una donna, ha puntato, scusate, una pistola, ad una donna 34enne, la cassiera. Dammi tutti i soldi, in sostanza. Lei, alla fine, insomma, ha dato tutto, perché nel dubbio dice, non so se è vero o finta, quindi meglio non risiare. Questo si è preso i soldi ed è uscito. Fuori c'era un complice, un complice che lo ha atteso alla guida di una lancia Y. A un certo punto, poi, chiaramente, quando è salito il rapinatore, tutti e due sono partiti, si sono dileguati in maniera rapidissima. Il problema qual è? È che questo qua ha fatto una rapina con la sua macchina personale, quindi, insomma, aveva usato la sua auto, quindi non ha fatto in tempo a rientrare a casa e che i carabiniere hanno suonato il campanello, dlin long, ecco, e l'hanno portato in carcere. E vabbè. Questa è la rapina di... prima di Pasqua. Poi, le pagine di Fano del Corriere Adriatico, tutto lo sport è bloccato, oppure i lavori, congelati cantieri per il tetto della palestra di Cucurano e l'impianto del volley di pallavolo alla trave, inibiti l'accesso al circuito Marconi. Le società di base riprenderanno l'attività per ultime, intanto, anche Don Stive Carboni, che è il consulente ecclesiastico del Centro Sportivo Italiano, del C16, si può fare sport anche in casa. Intanto, qui vedete Carboni, Mazzanti e Mattioli. Don Stive è l'allenatore Mazzanti e Mattioli del C16. Poi, Fano ce la farà e l'Arcobaleno risplenderà. Se avete tempo, andate sul nostro sito occhialotizia.it, c'è anche lì il video che abbiamo pubblicato ieri, ed è un bel video, anche commovente, dove ci sono una trentina di voci che intonano un inno alla speranza da estendere all'intera città di Fano. Sono i ragazzi, io li definisco, speciali della nostra città, che dicono appunto, Fano ce la farà e l'Arcobaleno splenderà. Ed è un bel video che ha realizzato l'Assessorato dei Servizi Sociali. Bagno di Pasqua, invece, che è costato ad una signora che non ha saputo resistere 400 euro di multa. A Fano sono 4 in totale i multati. I pochi presenti al mare abitavano a pochi metri. Non è il momento di abbassare la guardia, dice Sara Cucchiarini, Assessora della Polizia Locale. serve ancora un po' di pazienza e quindi teniamo duro. Quindi in questo articolo di Anna Marchetti si fa un po' la sintesi di quella che è stata la situazione di Pasqua e Pasquette. Intanto la Polisportiva, e parliamo di solidarietà, Caminate dona 2000 euro al Comune di Fano a favore delle famiglie. Poi Gabellini, Presidente del Fano Calcio, cala la nebbia sul campo sportivo di Chiaruccia. Attenzione perché Gabellini, che di professione non è che fa il Presidente di Calcio, ma è un imprenditore anche di successo che ha una società di software con sede a Senigallia, di cui socio al 50%, insomma pare che abbia venduto, ceduto il 70% delle quote della società di software, di cui è socio al 50%, e la notizia è stata pubblicata nel giorno di Pasqua dal Carlino. Gabellini nei mesi scorsi però si era fatto promotore della costruzione di un nuovo stadio ecoenergetico tra i 5 e gli 8 mila posti dotato di ben 5 campi da calcio e che avrebbe dovuto realizzare in project financing. Ora, che cosa, visto che ha venduto una buona fetta della sua società, che cosa succederà adesso? Non lo so, potrà dirlo soltanto lui. Intanto una piccola donazione fatta col cuore anche da parte del circolo anziani dell'ex forobario di Fano alla protezione civile 100 euro, ma 100 euro donati col cuore sono come 100 mila euro. Quindi 100 euro donate alla protezione civile caramelle e cioccolatini per tutti fino all'esaurimento scorte e questa è l'iniziativa del circolo anziani. Poi da Urbino. Urbino si è ospedale Covid, Cerisciogli ora deve intervenire, lo chiedono partito democratico e viva alla regione e chiedono di risolvere l'emergenza della destinazione mista dell'ospedale di Urbino che adesso è un po' e un po'. Ancora dalle pagine della nostra segna stampa da Senigallia dalla discoteca ai terrazzi si balla ovunque ma alla fine c'è chi chi chiama i carabinieri il titolare delettore di Marzocca ha rallegrato il pubblico fino all'arrivo degli uomini in divisa praticamente cosa è successo è successo che il titolare di questa discoteca ha posizionato le casse verso il mare della terrazza del locale di via 24 maggio da qui è partita la musica che ha rallegrato le frazioni di Senigallia per oltre un'ora qualcuno non ha gradito e dunque ha chiamato i carabinieri ma questo è il tempo del silenzio non dimentichiamocelo c'è poco da ballare sui terrazzi c'è gente che muore c'è gente che soffre c'è una marea di gente che soffre c'è poco da ballare siamo una volta tanto non facciamo gli egoisti loro soffrono noi balliamo una volta condividiamo anche la sofferenza anche noi che stiamo bene condividiamola e accettiamo una volta tanto il silenzio e l'isolamento e tutto quello che un po' di sacrificio questo ci viene chiesto facciamolo prende fuoco il magazzino di un'azienda invece sono due incendi un doppio rogo a tre castelli nel giorno di Pasqua il primo divampato in via Antonelli a Brugnetto in mattinata è interessato sterpagli a ridosso dell'abitazione poi l'altro invece in via dell'industria sempre a tre castelli intorno al giorno del pomeriggio dove è andato a fuoco un magazzino di una ditta poi due notizie una una buona e una cattiva come si dice quella buona è la festa dei cento anni per nonna Rosa Agostoli a Macerata Feltra tutta la comunità si è stretta virtualmente attorno a questa signora che è compiuto cento anni e poi invece a Pesaro la brutta notizia è che un parroco un altro sacerdote di 61 anni Don Marcello Balducci che aveva 61 anni era stato vice parroco a Santa Croce e attualmente era aiuto pastorale della parrocchia del centro storico cattedrale di Santa Maria Assunta San Giuseppe Santi Giacomo e Lucia è morto e quindi la chiesa di Pesaro viene colpita da un altro lutto e con questo chiudiamo qui la nostra segna stampa 139 persone sulla nostra pagina Facebook 139 persone che ringrazio e saluto vi ricordo ancora una volta e questo lo ricordo a loro a coloro che ci seguono su Facebook a voi che ci seguite su Facebook e sotto c'è questa nuova possibilità che ci dà Facebook ci ha selezionati e quindi ti sta piacendo invia stelle per supportare Occhio alla Notizia se volete anche questo è un piccolo aiuto noi intanto ci vediamo stasera alle 20.30 con Occhio alla Notizia e se volete potete scriverci inviarci segnalazione al 338 4968 250 una serena giornata a tutti voi a Fano e mezza mezza festa ma insomma qui i giorni sono tutti uguali quindi comunque sarebbe sì mezza festa a Fano martedì di Pasquetta dopo Pasqua insomma quindi grazie per essere stati con noi ci vediamo stasera arrivederci a